buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro terzo appuntamento con gimblotti come voi ben sapete le regole ci guardiamo un video di teorie del complotto e beremo degli sciottini di gini in base a delle parole che verranno dette che noi sceglieremo di comune accordo se voi non avete visto i video precedenti vi consigliamo andare a vedere così magari non solo avete modo di capire meglio di che tipo di tematiche che trattiamo ma vi potete fare anche qualche risata ragazzi allora iniziamo una perna ciascuno e selezioniamo la teoria del complotto di oggi io ci ho pensato già per oggi ma io non so se è valida se come devo dire se esce la mia in caso poi verifichiamo tu stando la scrivi poi diciamo la verifichiamo la mia è vecchia scuola ragazzi è molto vecchia scuola un numero 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 no 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 mi guardo mi connetto mentalmente così si connette mentre questa è un'altra teoria del complotto è connesso mentalmente lo scopriremo due la mia due non è questa è sempre la mia per come l'ho piegata non è la mia è il suo non ci posso credere mitico ma come si è connesso bene tipo cerbero pippo franco morto la devo dire che pippo franco sia morto e c'è un sosia al posto di pippo franco non l'ho mai sentita ragazzi non so se l'abbiamo sentita scusate se lo interrompo alla live di barbascura x col maestro carlo sortino a proposito vorrei raccontarti una cosa incredibile che è successa a pippo franco era quel pippone ma ogni volta io do la cosa la battuta di carlo sortino sul fatto che pippo franco si dice che sia morto a udine perché stava rubando delle mandorle gli hanno sparato lui è morto hanno preso un sosia per mandare avanti il business di pippo franco eh ragazzi io devo essere un po' quiz devo essere sincero io non me la ricordavo scegliamo il video ma se noi non troviamo dei video che parlo di pippo franco ma io poi non ho idea che parole scegliere su pippo franco come detto all'inizio io non sono sicuro che sia una la mia era più bella comunque intanto vediamo se troviamo un video che parla di questo lo so che non è il format classico che prima scegliamo le parole poi il video intanto vediamo se esiste un video si esatto niente cerchiamo uno delle altre due peccato però peccato ora non mi ricordo più quale quale vabbè meglio per noi beeeella questa è bellissima ah questa allora nuovo ordine mondiale non l'ho scritta io quindi suppongo che l'abbia scritto tu sarebbe stata la mia seconda scelta la mia prima scelta ma la posso rivelare perché comunque beh ovviamente ci provo col prossimo episodio la mia teoria era ragazzi bella anche questa bella anche questa la mia direttiliana però volevo scrivere sono una cosa di nuovo ordine mondiale devo rivedere cosa riusciamo a trovare scegliamo le parole come al solito che scrivi tu che c'hai sempre l'acropia migliore di tutti allora quante parole illuminati sempre nove ragazzi illuminati illuminati sicuro massoni massoni io dico potere potere sarà la prima parola che uscirà come si chiama quella cosa i rockefeller quella cosa i rockefeller quella famiglia i rockefeller il bilderberg verità secondo me la verità può essere l'essere sì sicuro altre te parole mancano inganno americani no inganno ragazzi anche allora americani inganno sono d'accordo e aggiungete anche popolazione e dovremmo essere a posto popolazione perché salta sempre controllo della popolazione riduzione della popolazione popolazione del nuovo ordine mondiale anche se mi ricordo americani già l'abbiamo utilizzato forse nel primo episodio sì sì qualche episodio fa vabbè ragazzi qualche shot fa come vi ricordo non abbiamo mai visto questi video e ovviamente il perdente si dovrà bere il resto dei shot ragazzi allora teoria del nuovo ordine mondiale 11 minuti allora secondo me questo fa per noi in caso noi guardiamo due come abbiamo fatto qualche puntata fa vediamo benissimo adesso si inizia siamo oltre 6 miliardi di persone e tutti noi veniamo al mondo cresciamo studiamo con la speranza di trovare un lavoro e di realizzarci nella vita consapevoli che il destino è nelle nostre mani almeno questo è quello che tutti ci aspettiamo ma le cose stanno veramente così la società che ci circonda non è così casuale immaginate una piramide con una base molto larga in cui si trova la massa della popolazione questa base ogni piramide tende a spazio ma meno che si va verso l'arte per cui ogni livello superiore ha meno spazio e quindi può contenere sempre meno persone finché non arrivi alla punta dove c'è spazio per pochissimi ecco questo è ciò che dicevo un mio ex professore universitario per spiegare i centri di potere questo è quanto accade la nostra società che si attissa al vertice nonostante siano un pochino siamo iniziati in benito la base della piramide c'è tutta la massa i livelli intermedi servono a congiungere questi due mondi certo verrebbe da dire ma se la massa è composta da miliardi di persone perché non si impone su quelle poche che stanno al vertice beh non funziona proprio così ma andiamo per gravi c'è un breve articolo pubblicato il 7 giugno del 1999 dal Corriere della Sera in cui si parlava di un gruppo di persone fino ad allora molti sconosciute i Bilderberg l'articolo si riferiva all'oro di un anno speciale annuale del 1999 e si era appena concluso in Portogallo giù 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 che dobbiamo riprendere in questa riunione si era discuto tra i vari temi anche sul dopoguerra in Kosovo il gruppo Bilderberg diceva l'articolo è nato nel 1954 e riunisce personaggi più illustri nei vari campi a livello internazionale tra i personaggi presenti alla riunione venivano citati Umberto Agnelli il famoso ex segretario di stato americano Kissinger l'ex presidente del consiglio italiano ragazzi americani americani vero scusami ma era come inflessa vale vabbè tiriamo due minuti però questo lo devi bere potere 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 generazioni future e soprattutto sul perché siamo in questa situazione ossia guerre civili e religiosi in ogni continente violenza e corruzione ovunque anche negli stati che si definiscono più evoluti la condizione di povertà in continua espansione nel mondo e così via purtroppo il trend della nostra società è drammaticamente negativo la domanda che vale la pena porsi è ma c'è qualcuno che alimenta queste cose? esiste un comune denominatore dietro tutto questo qualcuno che quindi ne trae beneficio solo la verità ci può rendere veramente povertano andate insieme allora la domanda che ci dobbiamo porre è conosciamo la verità certo i mass media i politici i sociologi ci martellano con le loro interpretazioni ma ci possiamo fidare di loro secondo Davide famoso per la sua teoria dei lettigliani in un suo libro espole da lui una denominata catena dei comandi che governa il nostro pianeta piena al vertice di tanti nomi sconosciuti e di cui nessuno parla dove figura anche il gruppo Bitterberg ma questo non è il vertice della gerarchia quindi prima di parlare di loro vediamo di scoprire chi sono quelli che sembrano comandarli al vertice pare ci siano gli illuminati e la novità nera inoltre alcuni credono che ci siano anche appartenenti alla massoneria sicuro? gli illuminati sono portatori di luce ma no 30 secondi ma cosa è rimasto? è rimasto illuminati no massoni rockfeller inganno quindi massoni rockfeller inganno tre per presidente e governi la loro caratteristica è quella di essere nascosti agli occhi del pubblico il loro albero genealogico va indietro di migliaia di anni e sono molto attenti a mantenere il loro legame di sangue di generazione in generazione senza interromperlo il loro potere risiede nell'occulto e nell'economia uno dei loro motti è il denaro crea potere possiedono infatti tutte le banche internazionali il settore petrolidero e tutti i più potenti settori industriali e commerciali ma soprattutto sono infiltrati nella politica e comandano la maggior parte dei governi e degli organi sovranazionali primi fra tutti l'ONU e il Fondo Monetario Internazionale i loro piani sono sempre lungimiranti sembra infatti che Bill Clinton sia stato preparato alla missione di presidente degli stati anch'io all'oligarchia degli illuminati fin da quando era giovane all'oligarchia degli illuminati questo consiste nel creare un unico governo mondiale ed un nuovo ordine mondiale una oligarchia con a capo loro stessi per sottomettere il mondo a una nuova schiavitù non fisica ma per fare spirituale le origini del nuovo ordine mondiale sono antiche e risalgono già al 1700 quando il complotto venne formalizzato con l'elaborazione di un vero e proprio programma nella prima metà del 1700 l'incontro tra il gruppo dei savi di Sion e Mayer-Hamskel-Roshield di cui ho già parlato nel video precedente ossia l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il sistema bancario internazionale porta alla redazione di un manifesto i protocolli dei savi di Sion in 24 paragrafi viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l'aiuto di un sistema economico sempre Mayer-Hamskel-Roshield aiuta e finanzia l'ebreo Adam Wysho un ex predete unita che a Franco Porte crea un... sono stati resi noti i loro nomi grazie a qualcuno che ha abbandonato l'ordine ha deciso di cambiare vita e rivelare le informazioni più importanti ecco quindi le 13 famiglie occhio occhio ragazzi occhio arriva 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 sono rimasti inganno inganno no è verità no è massoni col tempo questo lato occulto si è modificato è riuscita a camuffarsi benissimo nonostante il progresso tecnologico la storia contemporanea è infatti complessa e oltre in modo variegata non devi concentrata sono affiliati ad oscuri ordini esoterici l'ex presidente americano Giorgini ad esempio è un 33esimo massoni è verità scozzese ossia no un gatto 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 hai sbagliato il bicchiere ah ah un gatto sarebbe stato iniziato nel 1943 doppio doppio anche perché l'ha versato qua troppo cosa è rimasto solamente verità a questo punto inganno George Bush ha diretto anche la CIA e gli esempi sarebbero tanti l'autorevole riviste inglese Economist il 25 dicembre del 1992 scrisse che la scala di Sattento però ho detto stava arrivando Rod Strass sono la moderna risorgenza degli Illuminati di Baviera di Jan Adam Weisselt di cui ho parlato in precedenza il gruppo Bilderberg rappresenta uno dei più potenti gruppi di facciata degli Illuminati nasce informalmente nel 1952 ma prende questo nome solo nel 1954 quando il 29 maggio viene indetto il primo incontro presso l'hotel Bilderberg di Osterbick ah è uno real da allora le riunioni sono state ripetute una o due volte l'anno all'inizio solo i paesi europei ma dagli inizi degli anni 60 anche in Nord America ma farne parte non è come comprare un biglietto al cinema in esso sono presenti le persone più potenti al mondo tra gli italiani ad esempio si dice abbiano partecipato a queste ristrette riunioni personalità del calibro di Agnelli Monti forse questo episodio lo chiudiamo con qualcuno che vomita mezza parola insegna è arrivato dopo scusate per visibile come per più tassi di due facce della stessa medaglia l'esperienza mi insegna che spesso la risoniva non cambia lascia a voi mi sono solo limitata a riportare dei fatti per i diritti quella ma potete capire che non sia stato affatto semplice chiudo questa incompleta narrazione che vi ho offerto con queste parole avremo un governo mondiale che vi piaccia o no l'unica questione è se questo governo verrà realizzato tramite la conquista o il consenso questa frase non è presa da un film ma fu pronunciata da Paul Warburg ossia uno dei personaggi più potenti e influenti della storia americana in stretto contatto con i Rothschild il 17 febbraio del 1950 dinanzi al senato degli stati uniti queste parole sono indubbionetti inquietanti e riecheggiano ancora oggi molto bene dunque tante soddisfazioni grazie per questo video ha pevuto 6 shottini per la prima volta dopo 3 puntate 6 cicchietti ragazzi nessuno aveva raggiunto questo limite per la prima volta dopo 3 puntate non hai perso oggi hai fatto schifo per la prima volta dopo 3 puntate ed io ho perso come il regolamento imporrebbe che lui bisogna far fuori l'ultimo cicchietti siccome io non ho bevuto fatemi bere no 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 è mio è mio è mio è mio tu trovo bere? anche me lo chiedo bere vabbè prendiamo una no dai facciamo una una no no alla gonna no faccio la prima volta è la prima volta è la prima volta è la prima volta è la prima volta vabbè abbiamo ne uno fobice carta sasso non vado devi farlo proprio contemporanea fobice carta sasso uto vabbè io vado sobice non è essere contento o meno io vado sobice ragazzi io vorrei dire non c'ho molto di cui parlare su questa non so se voi avete molto io ho usato un piccolo appunto il video è stato molto carino ben fatto questo si deve riconoscere anche se a volte usava immagini di persone con la testa a globo con un triangolo in mezzo e questo è quello degli è il logo degli illuminati si vabbè ma nemmeno una carta di Yu-Gi-Oh è così brutta c'è è bello che è il logo degli illuminati c'è io direi con un bianco gli occhi azzurri era simbatico infatti con le carte di Yu-Gi-Oh erano belliche ce le avevo tu lo ricordi? ti cagavo il cacchio per giocarci e cagli ma quello che volevo dire è che noi abbiamo ascoltato tutto questo in un video di 11 minuti e 48 secondi di un tizio che cerca una tua storia Vienna Sapiens da non confondere con Vienna Wighterman quel Clementino mettete tutto da parte Clementino Vienna Wight che so non so di chi è andato da Clementino non lo scoprirai su YouTube lo scopri ok no quello che volevo dire la seguente cosa noi abbiamo visto sto video di Vienna Riddens Sapiens ah scusate ma quello che dico io la seguente cosa cioè lui secondo la sua storia che a parte che io molte delle cose già le sapevo perché perché come dicevo io questa è della vecchia scuola infatti questo cosa un po' trite e ritrite mettendo delle immagini di impatto non c'era nessun video era un voice over su delle immagini senza referenza cioè alzava delle accuse a delle persone no aspetta 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 ti devo contraddire lui a fine video dice queste sono notizie che io ho preso quella quindi lui stesso sta dicendo la fonte l'ha detto dove è la fonte no lui sta dicendo prendete le mie parole con le pinze perché io non ho verificato le mie fonti quindi inutile che vi do fonti X ah ok io ho reperito queste informazioni vi sto riportando quello che io so se dovessi essere preso in questa maniera avrebbe un senso leggi anche bene il titolo non penso che sia no no è teoria non è il nuovo ordine mondiale no quindi tu dici che lui non è un complottista no lui è complottaro lui è complottato però lui ha riportato delle notizie ha trovato magari lì per lì tipo portate riportate negli anni quindi un po' quelle tre famiglie che sono sempre quelle da vent'anni perché quelle non cambieranno mai l'unica cosa fosse stabile oltre la piramide dove c'è qualcuno per me il triangolo è solamente uno ragazzi il triangolo sono una cosa il triangolo il triangolo no non l'avevo considerato no vabbè facciamo avanti avanti non l'avevo considerato comunque niente probabilmente io vorrei dire solo una cosa giusto se c'è il nuovo ordine mondiale c'è giusto mettiamo caso per un istante che ci sia non c'è perché non c'è un governo mondiale unico ok ma metti caso per un istante metti caso immagina che come ci insegnano gli anime che abbiamo sempre visto i film sti cartoni animati immagini che esiste un tavolo lunghissimo in cui ci sono tutti i presidenti degli stati si chiama G8 quello comandati da qualcun altro però da chi muove i fili tipo Nefer Pitu Pitu ho sbaglio Pitu e ti rimane c'è Nefer Pitu che gli fa ragazzi noi siamo in un nuovo ordine mondiale dobbiamo entrare in campo ora lui dice e gli fa cambio più o meno ora lui dice che noi vogliamo o no giusto se così fosse perché il nuovo ordine mondiale se esiste io sto mettendo per la sopito come dire belliterio che esiste per la sopito era sopito che esiste quindi dico io se esiste perché non non si fa avanti visto che noi nolenti o dolenti lo dobbiamo accettare ah questo è un buon buon punto questo volevo arrivare io magari ci ho girato un po' intorno perché secondo me dovresti fare questa domanda a un complottaro quello che dico io è la seguente cosa rispetto tu non puoi dire intanto la frase la frase non prendete le mie parole con una pinza e una no non so se l'ha detta lui attenzione beh potrebbe essere paraculata no no aspetta attenzione io non sono sicuro allora lui cosa ha detto alla fine perché lui ha detto alla fine semplicemente dice queste sono notizie che ho preso qua e là ok quindi io la interpreto come le ho prese qua e là ho capito ma si no prende come vuoi tipo cosa per sentito dire ma non puoi parlare per sentito di non si può parlare quando dico batista spondavi diceva a triple h ah ma tu quindi mi hai tradito veramente cioè sono voci del cuore lui non è che lo sapeva gli aveva detto Randy Orton all'epoca cioè ragazzi io non ho idea di cosa sia quella cioè io mi dissocio vabbè era per farti no non abbiamo capito un c***o ok no quello che provavo a dire poco fa visto che lui non ha detto le parole delle pinze tu non puoi dire fatti qua e là io l'ho mandato insieme perché non perché non 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 c'era uno un singolo documento in questo abbiamo visto che provava una delle tantissime teorie perché è vero che tu diceva una teoria ma tutte le quando si creano delle teorie si però aspetta però quello che ti voglio dire io molti dei complottari che creano queste teorie non si basano su cose che tu puoi andare realmente a controllare nel senso beh loro prendono articoli di tizio x ci siamo poi lo prendono lo leggono lo reinterpretano diciamo quindi magari c'è scritto un esempio del coronavirus il coronavirus bla 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 le altre temperature sembrano resistere loro lo prendono e dicono ah quindi col caldo muore esatto quindi andiamo tutti al mare per fare è un esempio attenzione infatti buttateli a caso un po' questa cosa in questo caso un po' come nel primo episodio abbiamo visto un video di morison che lui diceva che il coronavirus di mercoledì e giovedì non attacca poi abbiamo siamo andati ad approfondire andava a farsi le carne andava a signorine a bot poi siamo andati ad approfondire scusami piccola parentesi perché la volta scorsa ma secondo te il moscone dove gli andava a put bestemmiava a parte quello ma poi scendeva le uccideva gli rubava i soldi non lo so non era tipo gta mod posso continuare scusami stavo dicendo stavo dicendo siamo un po' sette con i temi stavo dicendo che è vero che si è scritto quelle notizie l'ho trovata l'ho verificata l'ho trovata pure su notizie vere ma si riferiva assolutamente al weekend al weekend lungo per il 2 giugno quello che stavo dicendo io cioè loro prendono una cosa reale poi la espandono poi aggiungono altre notizie cioè io loro prendono tipo il coronavirus è il 5G secondo alcune secondo alcuni calcoli secondo alcuni approcci scientifici a questa temperatura magari non resiste poi prendo un'altra notizia abbiamo scoperto che è questo elemento presente anche nell'acqua di mare scusa presente anche nell'acqua di mare sembra non agire col coronavirus loro prendono queste due cose e le uniscono alta temperatura mare in estate uguale e siamo uguali a me mi era sembrato che era la fai di nuovo l'equazione quello che lo faccio io loro dicevano non resiste alle alte temperature quindi l'estate non resiste a cose tipo l'acqua del mare estate mare pizza con l'ananas pizza con l'ananas e vi lasciamo con questa perla prosciutto bruto senza senza ti scrivo ciao 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 Grazie a tutti